Se vuoi capire il risultato? Ha scritto così? Ha detto un po' di scelta, non metto, niente di speciale. Non mi devo vedere con il cuore perché non ne vado particolarmente più. Il papà è la sua morte a causa del biossimo intervento. Ha detto che è un po' di scelta, che è un po' di scelta, ma è laureata di scienze, e non è un po' di capire. Finiamo in bellezza.